Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso Sarezzano. Andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Buongiorno amici e ben ritrovati con il pastore transumante e la CIA di Alessandra. Ciao Dario. Buongiorno Genne. In allevamento non troviamo solamente pastore maromani abruzzesi, ma troviamo altre razze di cani da lavoro. Oggi parliamo del lagotto romagnolo, l'unica razza certificata in Italia per la ricerca dei tartufi. Allora, caratteristiche della razza e impiego sul lavoro ce le spiega Dario. Grazie mille Genne. Finalmente è arrivato il momento di parlare di lagotti, di ragotti romagnoli. Lagotti romagnoli è un'altra razza che in questo territorio appunto del Piemonte, provincia di Alessandria, con gli tortonesi, è particolarmente evocata alla ricerca del tartufo. Volendo andare a essere ovviamente schietti e sinceri, probabilmente è l'unica razza a livello mondiale che aiuta appunto ed ausilio all'uomo per trarre anche un reddito. Il reddito viene tratto praticamente dalla ricerca del prezioso stubero che si fa appunto in questi territori ricchi di specie appunto di artufigi e di commestibili, ma per la maggiore insomma tartufo bianco e scorso onestivo. Il lagotti è una razza molto particolare, una razza riconosciuta a livello diciamo internazionale da all'incirco un decennio, ma che grazie all'opera dei tanti allevatori appunto italiani e del club di razza che in qualche maniera tutela, ha avuto un miglioramento veramente enorme sotto tantissimi punti di vista. Questo attaccamento appunto al lavoro e quindi al compiacere il padrone attraverso il gioco ne fa sì che praticamente sia assolutamente una razza che a livello internazionale è cercata non solo appunto come cane lavoro e quindi da ricerca del tartufo, ma anche come cane da compagnia. Infatti il lagotto fondamentalmente sta avendo, sta attraversando una fase veramente d'oro proprio perché è un cane rustico, quindi è un cane vero, ma comunque con una spiccata intelligenza e una spiccata dose di come dire attaccamento all'uomo che ne fa un ottimo ed eccezionale cane da famiglia. Quindi i nostri cani vengono cercati in tutto il mondo, vengono esportati in tutto il mondo dalla Corellandia, Sudafrica recentemente come il Giappone e Cina, proprio sia come dire sia per coloro appunto che li vogliono come cane da compagnia, sia per coloro che vogliono cimentarsi nella ricerca del tartufo che alla fine è un fungo ipogeo che anche se magari non commestibile può essere trovato in altre parti del mondo ed Europa, quindi a te la parola. Ecco, allora raccontiamo in sintesi chiaramente quali sono le tecniche per addestrare, o meglio so che sono super segreti, però qual è l'attitudine principale che distingue questa razza da ricerca? No, non ci sono veri segreti. Il segreto sta appunto in coloro che si sono adoperati negli anni, quindi prima di me, che insomma allevo questi cani da sette anni, otto anni, quindi volendo non da tantissimo, ma si sono adoperati nel ricostruire la storia di questa razza che originariamente appunto veniva utilizzata per il riporto in acqua nelle valli di Comacchio e che poi ovviamente storicamente in un processo abbastanza lungo è stata alleata dai cercatori dei tartufolai di queste zone e comunque del nord Italia. Quindi le caratteristiche principali sono appunto come dicevo l'attaccamento al padrone, l'attaccamento al padrone è un cane a cui piace veramente collaborare, è un cane molto vitale, è un cane sano, è un cane che fondamentalmente ha nel fondo e quindi comunque nella fisicità, nel senso nella sua dinamicità, un'altra sua forte caratteristica, è un cane instancabile nel bosco, in pratica il cane ha proprio piacere di vivere il bosco, di sentire gli odori della natura, quindi è un cane con cui veramente si riesce a riabbracciare il piacere di passeggiare nel bosco, quindi aiuta a prendere questa cucciola che vada e quindi è veramente un successo italiano, un'eccellenza italiana a tutto tondo, da tutto il mondo ci cercano questi cani, ok nel nostro rilevamento abbiamo ovviamente delle eccellenze particolari, quindi questo fa sì che veniamo riconosciuti abbastanza come leader nel settore, nel senso che i nostri cani, grazie devo dire all'aiuto di altri allevatori, quali appunto posso citare il mio mentore Lorenzo Ciacci Marchigiano, mi ha aiutato appunto a selezionare questi cani con una forte attitudine di ricerca, infatti il cane per diventare anche campione italiano di bellezza da un paio di anni ha come obbligo l'essere cercatore di tartufo, quindi vengono fatte delle prove di ricerca e poi ovviamente ci sono delle patologie che questi cagnolini, anche se sembrano così sani e forti, potrebbero presentare nel proprio DNA e che vengono testate e quindi che geneticamente i nostri cani sono sicuramente puliti e puri, così come il cliente si augurerebbe, possano essere per crescere sani e forti e per essere compagni di vita, compagni di gioco, compagni di lavoro e quindi un'altra eccellenza del mondo fondamentalmente legata all'agricoltura, perché c'è anche la tartuficoltura, che è attività prettamente agricola e quindi noi coerenti con il cane torna a lovire, quindi a riscoprire i cani autentici di lavoro, vi presentiamo questo cane che fondamentalmente è un'altra eccellenza di cani ausiliari per l'uomo italiana. Grazie Dario e salutandoci, quanto tempo hanno questi cucciolotti? Un mese e mezzo di vita, allora andiamo perché sono vivacissimi. Amici grazie di averci seguito e aspettiamo i vostri commenti e suggerimenti anche per le prossime puntate. Cacau meraviglia, O'Kennel. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever honey, I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away and skip to the beat of our hearts as they chatter as a pitter-pitter-patter. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.